La partenza Allora vi ricordo che sono i check-in, Baccar Antonini Via! La partenza Il team Marchiola vince la crono inaugurale del giro della regione Friuli-Venezia Giulia Alberto Cecchini è la prima maglia bianca Carla Carnia, welcome Per te una grande soddisfazione e una vittoria giunta alla termine dei 20 km per soli 20 centesimi Sì, come ho detto prima l'abbiamo preparata questa cronometro quindi siamo venuti qui con la motivazione giusta e con la grinta necessaria Ci è andata bene per 20 centesimi, è veramente poco quindi un grazie alla squadra perché siamo andati fortissimo e speriamo nelle prossime tappe e speriamo che ci sono Grazie a tutti